Igor Mikhailovich, si dice che nei tempi in cui il Magdi sarà presente nel mondo, da lui era un richiamo che la gente potrà sentire. Di quale richiamo si tratta? Ebbene, di questo, che ci sarà un richiamo, si è parlato in molte religioni e non solo riguardo a Magdi. Questo è ciò che avviene adesso realmente e paradassualmente fino a poco tempo fa non c'era. Ma ora c'è ed è un fenomeno fisico. Beh, potrò dirvi qual è il modo più semplice per sentirlo. Non è una meditazione oppure una preghiera. Non è un suggerimento come se stessimo seduti qui a parlare. Perché molti potrebbero interpretarlo in modo diverso, a causa dell'influenza degli shaitani, a cui questo non piace. E per te la ragione, ora vi dirò la verità. La verità è semplice e chiunque lo voglia può sentirla. Devi solo sederti e calmarti. Bene, basta chiudere gli occhi e rilassarsi e cercare di ascoltare con la visione interiore il battito del proprio cuore. Provateci. Potete farlo ora o dopo la trasmissione o quando volete. Non importa se sei ateo, chiunque tu sia. Provate ad ascoltare il battito del vostro cuore guardandovi dentro. Assicuratevi che la vostra attenzione sia diretta dentro di voi e rimanete necessariamente con gli occhi chiusi. Perché aprire gli occhi terreni vi distrarrà e l'attenzione andrà dove non dovrebbe essere diretta adesso. Dopo aver chiuso gli occhi ed averli indirizzati verso il cuore, lo si sente battere. E questa è la prima fase. Una volta che sentite il cuore battere, rivolgete ancora di più la vostra attenzione ad esso. Per ascoltarne il suo ritmo ed il suo battito. Non immaginandoli, ma sentendoli fisicamente. Una volta che li sentite, immergete la vostra attenzione ancora più profondamente nell'area del plesso solare. E nell'area del plesso solare semplicemente ascoltate. All'inizio vi sembrerà che gli impulsi dei vasi sanguigni entrino anche nel ritmo del cuore. Ma fate ancora più attenzione e sentirete. Sentirete le onde divergere da lì e non corrispondono assolutamente al ritmo del vostro battito cardiaco. Sono onde elastiche, fluide, che si diffondono in tutto il corpo. E più presterete attenzione, più chiaramente sentirete queste onde che si diffondono in tutto il corpo, con molto calore. Addirittura con bruciore. Questo fenomeno fisico è assolutamente reale. Ma basta aprire gli occhi e distrarsi. E tutto questo sparisce. Questo ritmo di queste onde, che emanano dall'anima, equivale alla respirazione del sole. Precisamente al ritmo della respirazione del sole. Molti diranno, davvero il sole respira? Respira. E ha un ritmo che coincide perfettamente con queste onde che vengono dal nostro interno. Questo è il respiro di tutto il mondo. Torniamo al richiamo di Magdi, che non molto tempo fa molte persone hanno iniziato a sentire. E cercheremo di sentire non solo il nostro richiamo interiore, ma anche quello esterno. Cioè, ci sentiremo semplicemente l'un l'altro. E a cosa servirà questo? Questo lo rinforzerà. Una semplice proposta. Chiudiamo gli occhi e calmiamoci. Ragazzi, semplicemente rilassiamoci e concentriamoci. Come se avessimo abbassato lo sguardo interiore nel nostro petto. Il nostro compito è semplice. Ascoltare il battito del cuore. Dopodiché, quando l'abbiamo ascoltato e sentiamo il battito del cuore, scendiamo un po' di più. Nella zona del plesso solare. Come facciamo nella pratica del fiore di loto. E semplicemente aumentiamo questo ritmo, che è più morbido e fluido. E lo colleghiamo a quello degli altri. Restiamo letteralmente nell'unione per almeno un minuto. Un po' di più. Un po' di più. Grazie. 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 Grazie, amici. Sarebbe bello per tutti se un giorno tutte le persone in questa sfera, in tutto il mondo, potessero unirsi a questo ritmo. Ragazzi, amiamoci l'un l'altro. Cosa c'è di più prezioso dell'amore? Semplicemente. Semplicemente amarci l'un l'altro. Cosa c'è di più prezioso di più prezioso di più prezioso di più prezioso